Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con Silvio Montiercolani che ha vinto il torneo celebrativo del Magic Store come inizio storia di fumetteria. Ringraziamo il Magic Store che ha offerto questo bellissimo torneo. Esatto, ha fatto un torneo anche gratuito. C'era un sacco di partecipazione da parte dei player. Sì, è molto for fun perché adesso è post nazionale, gli europei li stiamo ancora aspettando. Noi comunque c'eravamo un po' tutti, quindi abbiamo provato anche dei mazzi un po' più nuovi. Ottimo, ok. E tu hai giocato? Io ho giocato sempre desco, ho vinto le vinte tutte. Ok. Ho giocato, intanto qui ci sono delle mostre di Speed 2 che adesso vedremo i premi, ok, dal primo. Poi, diciamo, 3Follen, 3Albaz, 3Lagidi, Adlebitum, Drammaturgo, 3Imp, 3Tail, anche 3 di questi. Massimizzato al massimo! 3 di questi, esatto. Sono tornati, sono tornati, 2 in second, quindi con i 2 di Ledger. E perché? Perché scusa? Ah, quindi era 2 in second, ok. Sì, 3 Patchwork perché preferisco usare Patchwork con... non mi viene in mente la... No, ok, i Tragedy, ok. Prendi che è bandato con Allure, preferisco anche quello lì come troppo in più. Ok, si sta. 3 Partenze, sì. 3 Fusion, 3 Red, ancora con le Source, poi spiegherò il perché. Ok. E Spolverino con anche le due Lightning Storm, Goinsack completamente. Ok, quindi era... quante carte se posso chiedere? 46, ho cambiato l'ultimo, comunque devo essere 46. Ok. È molto... ok. Ah, è la terreno, pure. No, 56, scusate. 56 signori. Questa qui abbiamo più partenze in più. Non so neanche quante carte ogni giorno. No, ho giocato... giocavo a 60 martedì nel World Arts. Ok. Quindi abbiamo giocato... ho cambiato un po' la lista. Due baratti? Esatto, due baratti perché giocavo a 6,8. Sì. Questi qui, design anche e distruggi in cardedì perché hanno un sacco di carte. Mamma mia, ok. Questo qui infatti ti porta a me giocare 3 Red. Sì. Non ho giocato Bando perché probabilmente l'avrei bannato e comunque a parte il 1.0 match non è così forte. Ok. Poi come second. E perché sono le due permanence? Ho provato la 3 però non volevo giocare troppe entrambe di main perché comunque... E Ashe non ci sono? Ashe, c'è di side, ve l'ho fatto già vero. C'è di side con Bando, con queste che possono fungere anche per il cross out. Ah, quindi due cross out. Ho voluto provare a giocare una lista per sperimentare anche il basso fino a dove si può spingere giocando tutto il 2 per per giocare più carte possibili da provare. Ok. Questa come Bando non è di main, però è la side per andare in mirror match. Sì, è molto forte. Guardarla perché volevo provarla, non ho pescato però... E' anche scartabile di baratto, ci sta. Contro panche forte, contro in generale comunque forte, piccione. Anche massimi con le mancipesse. Ah, giusto, verissimo. Sì, sì, sì. Ok, l'extra. L'extra è sempre uguale da infinito, anche con pro scheda. Ancora come ti trovi con questo? Non l'ho mai carato però è fortissimo. È fortissimo, ok. Questo perché sai del piccione. Sì. Tre di questi. Ok. Stappelia, uno di questi, uno di questi, io continuo a giocare in mono chimera e in mono regalio. Ok, sì. E mi trovo bene. Se mai stessi dove fare la seconda chimera, mai? Mai, perché quando faccio quella lì chiudo. Ok, perfetto. Poi, diciamo, facciamo... E' una stappelia, scusa, non si è visto bene. E' una stappelia sua. Una stappelia, ok, sì. Sì, se vuoi spostare, vai, vai, vai. Vediamo un po' cosa trovi. Queste sono quindi buste con carte stampate, ma che comunque in ogni caso si possono giocare anche in un formato normale, più in un formato specifico di Space 2. Che nessuno sa come funziona, però... Esatto. Lo scopriremo anche noi in altri video. Ok, ok. Sì, abbiamo trovato... Cioè, probabilmente è una foil. In ogni busto c'era una foil. Quindi vuol dire che le carte che sbosti qui, se vuoi giocare in questo formato, le avviene per forza in tutte le specie da Space 2. E' vero. Le carte tipo Crow, ad esempio, valgono qualcosa. Didi Crow, entendi? Ok. Questa hai detto che vale su 1€ e mezzo. Vabbè, ok. Su l'altro vale su 1€. Comunque lo diciamo in generale perché comunque sono cose che hanno un valore anche come delle comunasse qualsiasi. Per chi non dovesse saperlo, le Speed 2 hanno questa scritta qua particolare che... Questa qui. Eh, sono una foilatura molto interessante. Hanno questa scritta, è una cosa inusuale anche per i giocatori, diciamo... Questo? Anche. È una carta buona. Cioè, nel senso... Chiaramente non è il meta, però... Questo qui, ragazzi, sapete che diventerà monometa, vero? In quel formato Speed 2 è veramente forte. Il servitore del peschio è fortissimo. Infatti non volevo soffermarci... Ah, c'erano un po' viste contro questo mazzo, sappiatelo. Non volevo soffermarci troppo su effettivamente solo il meta perché ci sono anche altre cose. Il gioco è molto più ampio di come magari abbiamo presentato nei video fino ad ora. Quindi... Sì, noi siamo un team che guarda molto anche gli altri formati. Infatti non sappiamo minimamente come funziona Speed 2. Lo scopriremo quando magari comunque gioca a Speed 2. Lo scopriremo, lo scopriremo. Secondo me, ragazzi, devo vedere quella... Questa è molto bella anche per giocarla in PandaBun. Ma che è un servitore. È l'unica versione foil di questa carta per giocarla anche in PandaBun. Ah, bello, ok. Tu devi realizzare Goth. Esatto. E parlare... Anche questa è una carta di Axle di Goth che può servire... Cioè, serve per forza. Quindi... Non so cosa sia, però... Personalità contorta... Non lo so, magari... Uh, Darkrood questo vale, questo vale. Questo è una carta molto buona. Ok, ho trovato un Ultra. Deve avere un qualche valore c'è anche D.D.Craw tra l'altro. Ah, D.D.Craw anche, diciamo, chiamare qualcosa appunto perché si può giocare solo così in quel formato. Quindi, se vuoi giocare D.D.Craw devi giocarlo. Che mi sa che è l'unica entrap tra l'altro. Qui abbiamo tante personalità contorte. Ok. Un team di personalità contorte. Poi dopo ciò smirchiamo un po' di carte. Ok. Altro D.D.Craw. Che in questo caso si può giocare. Ti hai fatto il playset, dai, Silvietto. Adesso qua tra poco dobbiamo finire il video, quindi... Facciamo in velocità gli ultimi gustati. Un altro di questo è molto buono. Eh, no. Dattemi una balla anche a voi, per favore, dai. Facciamo in velocità. Si, può essere utile il tornado di polvere. Questo non so se può essere utile per qualche motivo. Poi ricordiamo anche che anche Thomas ha fatto un ottimo torneo. Ha fatto l'ultimo pareggio e basta, sempre con Dezia. E adesso trovo come su un piano, appunto. Vediamo il mio busto che viene fuori una carta costosa. No. Un'altra personalità contorta, ragazzi. No, speriamo che è un mondo tour che magari può essere... Andiamo a montare il maschio personalità contorta. Ben già il playset. Ok. Qui tra poco dovremmo anche chiudere. Giammi i mali. Un altro di questi che si può giocare anche in Sky Stryker. Una piaccia interessante con il second. Non ti fa pescare il prossimo turn, ma ti mostro qualsiasi. Questa, ragazzi. Posso farla in Sky Stryker. Un altro di questi. Poi... Questa è molto utile. Questa non la prenderemo, però... Bene. Ok. Ok. E questo invece ho scoperto che ci sono le buste per double slivare apposta. Non come di Magic. Sono proprio buste per double slivare. Aha. Sono Dragon Shield, Bat Clean, quindi sono trasparenti e anche opachi. Wow. Facci vedere. Vediamo un po' come funziona. Ho preso apposta qui a Magic per vedere un attimo come stanno. Ok. Di precisione non so come Magic che balla, no? Mhm. Vediamo anche... Guardiamo. Per mettere in maniera corretta è meglio mettere una carta in più per spingere la dentro. Ah si? Si, perché così non rimane lo spazio qui. Ah, qui si chiama che 500 euro? Questa è perfetta anche perché c'è più spazio qui per la carta. Ok. L'hai anche comprato queste buste? Ah, qui è il Magic Store. Ok. Il nostro... Il nostro... all'altro è quello in cui abbiamo ben tratto a giocare noi, quindi dai, siamo molto affezionati. Ottimo jeffs perché come vediamo non è... non rimane lo spazio nella busta che si può overreggere. Poi merglie anche applicazioni sessuali ragazzi! Sì, so veramente a posto! Vi ringraziamo! Grazie Silvio della Profile! tra i prodotti Dragon Shield Certo! Di Konami in generale! Salutiamo tutti quanti! File Prox – Ciao a tutti! Grazie mille, ciao! Grazie a tutti